clubhouse non è ancora arrivato in versione android attualmente in lavorazione ma è già possibile accedere in questo video andiamo a vedere come installare appunto un apk dedicato di cui è disponibile tra l'altro il codice sorgente quindi possiamo andare a vedere in forma diretta effettivamente come è stato realizzato questo porting che comunque poi è in rapido aggiornamento lo vediamo direttamente sul pc e di fatto occorrerà poi un invito ad iscriversi quindi se niente disposizione magari commenta qui sotto e se questo tutorial questo video vi sarà utile lascia un mi piace inoltre per qualsiasi domanda poi scrive all'interno dei commenti iscriviti al canale per non perderti prossimi video passiamo dunque direttamente sul pc per scaricare la pick up e vedere come installarlo sul nostro smartphone android bene la parte intermedia al computer molto breve basta scaricare la pick up che troviamo sul link in descrizione in questo momento la versione 1.0.8 magari cercando se ne trovano anche degli altri faccio vedere quello che ho installato io e si tratta dell'utente grisca su github e quindi il progetto house club che appunto sarebbe l'applicazione di clubhouse porting su android ha avuto una serie di versioni e man mano è stata diciamo perfezionata ci basta cliccare su house club release punto apk che l'installabile su android lo installiamo sul nostro smartphone quindi lo salviamo semplicemente e lo apriamo quindi ci verrà fatta l'installazione cliccando qui sopra si avvia il download molto semplice passiamo direttamente sullo smartphone per vedere come funziona una volta fatto il download possiamo collegare il nostro smartphone tramite usb al computer oppure passarlo ad esempio tramite telegram mettiamo il file appk ci clicchiamo sopra e lo installiamo una volta fatto questo procedimento avremo l'applicazione house club che è clubhouse però comunque ha un nome diverso aprendola vediamo che ci chiede il nostro numero di telefono in questo caso possiamo registrarci al primo avvio e poi ci serve che qualcuno inviti esattamente il nostro numero di telefono una volta fatto questo potremmo ricevere un link per registrare con i dati principali io adesso faccio il login e dunque sono all'interno di clubhouse non ho tutte le funzionalità e di fatto posso andare a vedere una serie di stanze che sono in più lingue alla fine quindi è un po confusionare la cosa posso accedere a qualsiasi stanza di cui io abbia il link a disposizione quindi se voglio seguire qualche community mi basta avere appunto il link della stanza condiviso e facendo uno swipe verso il basso posso anche aggiornare l'elenco per trovare qualcosa che mi interessa all'effettivo è possibile tranquillamente andare a cliccare sul proprio profilo quindi in alto a destra come stiamo vedendo personalizzarlo cliccando sull'immagine profilo si seleziona appunto la propria fotografia e si vede ogni utente può vedere chi ha invitato ogni singolo utente quindi io sono stato inviato da salvatore in questo caso posso fare il log out in alto a destra cliccando sulle sui tre puntini e di fatto per partecipare ad una conversazione posso semplicemente entrare all'interno di una stanza adesso lo vediamo troviamo anche la possibilità di vedere le notifiche come vediamo però è un po difficile esattamente andare per esempio a condividere gli inviti in questo caso sulla mia tendina delle notifiche vediamo che ho a disposizione due inviti in quanto mi sono registrato su clubhouse ma non ho la sezione per poterli invitare questo manca e sono aggiornamenti come detto che poi arriveranno successivamente quindi invito a tenere d'occhio il link che vi lascio in descrizione andiamo a vedere come funziona il discorso delle stanze che abbiamo nel menu principale di fatto vediamo non ci sono stanze italiane in questo momento ci basta comunque normalmente andare a fare uno swipe verso il basso per aggiornare l'elenco a secondo il momento della giornata e vedere se ce ne sono alcune attive comunque molto semplicemente come detto con il link dedicato posso accedere alla stanza in cui mi invitano quindi facciamoci prestare inviare il link se vogliamo partecipare a qualche community cliccando su una stanza qualsiasi l'altoparlante del telefono si attiva e quindi possiamo sentire tutto quello che c'è all'interno della stanza inoltre possiamo lasciarla in basso a sinistra con live room e quindi la trasmissione si interrompe la trasmissione audio e se vogliamo parlare all'interno di una stanza ci basta andarla a selezionare quindi una volta che siamo all'interno e stiamo nella conversazione alziamo la mano con l'iconcina che troviamo in basso a destra e quindi se il responsabile di quella stanza l'amministratore ci darà la possibilità di parlare ci arriverà la richiesta per che stiamo vedendo di partecipare come speaker e quindi dobbiamo solo accettare a quel punto possiamo collaborare partecipare alla conversazione per uscire dalla stanza clicchiamo su live room e sarà interrotta anche chiaramente la condivisione dell'audio come vi spiegato perfetto siamo arrivati alla fine attualmente queste sono le funzionalità presenti quindi se vuoi utilizzare clubhouse per parlare per comunicare all'interno di community dedicate posso farlo con questa distribuzione anche se non è ancora disponibile su android e funziona perfettamente quindi non ci sono problemi altre versioni sono attualmente in sviluppo anche quando guarderai questo video magari lo vedi dopo che l'ho pubblicato qualche settimana dopo e man mano un team o comunque alcuni utenti stanno lavorando per renderla sempre più efficiente quindi ti invito a seguire il link in descrizione dove ci sono tutte le distro e gli update sulle funzionalità che vengono sviluppate detto questo quindi a meno resta che ringraziare come sempre per aver visto questo video se ti è servito ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e attivando la campanella tra l'altro e per qualsiasi domanda come sempre qui sotto giù nei commenti oppure direttamente su instagram ti trovo il link in descrizione un saluto a tutti e al prossimo video